ciao a tutti ragazzi bentornati dagli eurokai e oggi vi porto un nuovo gioco che si chiama temple manners e lo proviamo con voi adesso ho già fatto qualche partita tipo il tutorial quindi se vedete degli slot già pieni e il tutorial ok noi qua abbiamo un'applicazione tipo tinder per un'applicazione di incontri dove conosciamo ragazze e ci scegliamo quella adatta io già mi sono scelto una tipa susan e me la porterò a cena rifarò con voi un capitolo c'è già provato nel tutorial allora portiamo nel nostro ristorante di fiducia dove c'è il nostro garso ciao cara come che si chiamava lei susan ok susan vuole che le verso del vino ok sono già diretta col vino questa questa è un ubriacona ve lo dico io ok prendiamo il vino guarda come guarda la bocca come la segui con gli occhi la bottiglia la pezza di imbriaca aspetta aspetta che te l'avessi o no 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 nel bicchiere nel bicchiere no ok dimmi basta 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 ok io ne mettiamo un altro po così si imbriaca e se combino scemenze non se ne accorge tipo questa lo devo versare anche a me ma io l'ho buttata la bottiglia aspetta aspetta non ordiniamo non dirò un'altra tanto una bottiglia in più una bottiglia in meno ok la sto versando si ok no la vabbè la portiamo io devo ascendere la candela con questo come funziona ah è la fiamma ossidrica no il bicchiere cazzo me l'ho appena riempito oh cazzo no 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 niente paura niente paura niente paura ok aspetta traccia oh è difficilissimo raga ok basta 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 via 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 che è successo sta prendendo a fuoco il tavolo porca troia che devo fare che devo fare devo spegnere il tavolo con la mano lo spengo no no via via basta di sto coso ho usato l'estintore e bruci se vabbè però non sembra tanto spengo ora te lo spengo cazzo cazzo ragazzi lo spento ok dai dai spegni 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 arrivano 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 te li metto io non ti preoccupare così to ne volevi uno te ne do due vedi come sono generoso eccoli ops l'estintore e gli asparagi ora ti arrivo all'asparago ecco qua occhio aspetta la candela ho bruciato io l'asparago bruciato l'asparago garso un altro asparago e aspetta allora vuole che io metto il pepe nella bistecca questo o questo è sale e quale cazzo so qual è il pepe quale è il sale ok questo è il pepe vuole il pepe vero bene dimmi pasta basta basta ok basta si capiva è il ketchup arriva cara arriva se lo porco due garçon il ketchup oh è spawnato cazzarola ok piano piano eccolo qua lo devo mettere dove nell'asparago non esce un cazzo qua nella sa nella bistecca perfetto va bene va bene così ti basta ok e ora vuole la pizza la pizza ok che poi io la pizza ce l'avevo ora vabbè ma mangia solo lei scusate io non mangio la devo imboccare ma veramente devo fare l'aeroplanino la gru guardala guardala guarda la guarda la guarda brava ok ora vuole il dolce ma questa non ce l'aveva le braccine per mangiare ok ti ecco il tuo dog aspetta prendilo e glielo mettiamo qui va bene no il piatto è pieno dove glielo metto qua ok io lo devo bruciacchiare ok ah sì questo è quel dolce che ho preso anche una volta tutto zucchero che brucia anche ora vai stiamo bruciando ok troppo 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 io l'ho bruciato proprio vabbè lei però è contenta vedi ti faccio una carezza guarda che dita morbide che ho hai mai trovato un uomo questa dita così morbide eh dimmi la verità eh ok lo champagne passiamo allo champagne ok champagneino garçon intanto il ketchup è rimasto a terra ecco si stappa da solo oh no non volevo scusa 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 gli ho fatto il bagno ah no è contenta gli è piaciuto lo champagne così diretto ah si è innamorata ha preso una cotta e io quanto pago 21 mila sterline complimenti va bene ragazzi fatemi sapere se questo gioco vi aggardo se volete che porto un'altra puntatina e ne faccio una serie scrivetelo nei commenti e ci vediamo alla prossima per il resto un saluto ciao ciao ciao